Cari amiche e cari amici, tra le esperienze più profonde che ho avuto nella mia vita c'è stata quella dell'Ajram di Ramana Maharishi in India e consiglio a chi può andarci di recarsi lì. Adesso non so se la situazione è cambiata perché ci sono stato più di 20 anni fa è veramente un posto incredibile dove si percepisce proprio la sua presenza e proprio a Ramana Maharishi voglio dedicare questo video Ramana diceva rispetto alla natura della mente che la mente non è altro che il pensiero io l'individuo è l'io credere che esista un sé individuale un sé che opera attraverso le dinamiche del corpo-mente è sbagliato è totalmente falso l'io come sé individuale non è altro che una modificazione della mente e ricordate il yoga sutra di Patanjali proprio il primo yoga sutra lo yoga è la cessazione delle modificazioni della mente quando le modificazioni cessano si scopre che l'io non esiste perché l'io è una modificazione della mente la mente non esiste se si prescinde dal pensiero ma a causa di questi pensieri continui del pensiero compulsivo si ha il senso dell'io ma se si va all'origine del pensiero compulsivo se attraverso l'osservazione nella meditazione nel luogo dove appare il pensiero compulsivo e se si indaga la fonte del pensiero continuamente al suo apparire diventa evidente che la mente non esiste non esiste ci sono da fare delle precisazioni però perché c'è una distinzione importante tra vedere e percepire perché la persona ordinaria la persona che non medita ha una mente divisa questo pensiero irrefrenabile e continuo interpreta la realtà modificando la realtà creando la sua realtà ricordate? Eraclito coloro che non sono svegli vivono in mondi diversi proprio perché la mente di ciascuno crea una sua realtà coloro che si sono svegliati dice Eraclito o Eraclito vivono tutti nello stesso mondo proprio perché è finita la compulsione e l'interpretazione della realtà cessa arrivato a quel punto ecco il motivo per il quale il ricercatore spirituale viene invitato a diventare il testimone ad essere l'osservatore perché l'osservatore perché l'osservatore va alle fonti del pensiero alle origini del pensiero un po' alla volta si diventa consapevoli del primo pensiero che sorge dopo un intervallo tra i pensieri quindi il punto di partenza è una compulsione ininterrotta dove sembra che non ci siano intervalli ma in realtà ci sono piano piano questa compulsione rallenta si cominciano ad individuare gli intervalli tra i pensieri e un po' alla volta si impara a dimorare in questi non luoghi negli intervalli tra i due pensieri arrivato a quel punto la sequenza dei pensieri che forma il processo della concettualizzazione o oggettivazione si ferma quando si impara a dimorare tra i pensieri e questo testimoniare attenzione è al di fuori della mente questo è l'osservatore l'osservatore non è nella mente l'osservatore è colui che osserva il pensiero e se lo può osservare vuol dire che ne è distinto tutto ciò che possiamo osservare non siamo noi e bisogna fare molta attenzione perché l'identificazione con il pensiero è potentissima potentissima dunque il testimoniare non è nella mente c'è questa sequenza di pensieri continui che formano una sorta di catena orizzontale e in questa catena orizzontale continua, 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 continua si generano sensazioni, azioni e queste sensazioni a loro volta alimentano altri pensieri questo è quello che accade il testimoniare è diverso potremmo dire che è verticale perché interrompe la sequenza orizzontale se questa sequenza compulsiva orizzontale non viene interrotta può diventare una situazione fuori controllo per esempio nelle patologie e nei disturbi mentali è totalmente fuori controllo ma in realtà anche quella che viene ritenuta la normalità è una situazione di patologia collettiva in realtà basta pensare che quando ci si mette le prime volte in meditazione si diventa consapevole esattamente di questa dinamica incontrollata della mente in genere però ogni sequenza viene interrotta quando nuove, diverse impressioni sensoriali si inseriscono e arrivato a quel punto richiamano l'attenzione del sistema nervoso centrale che anche questo in meditazione ha un ruolo importante perché sappiamo che è il cervello che decide i contenuti nella coscienza quali contenuti nello stato ordinario, nello stato di veglia è il cervello che è molto selettivo e decide quali contenuti debbano stare nello stato nella coscienza e quali escludere ma torniamo per un attimo al grande Ramana Marshi Ramana Marshi diceva che il destino è il risultato delle azioni passate c'è una causa e un effetto quell'effetto diventa una causa di un altro effetto e quell'ulteriore effetto diventa la causa di un altro effetto sono catene continue di causa-effetto 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 e poi sempre Ramana diceva che bisogna lasciare che il corpo agisca come preferisce e mi è rimasta sempre impressa questa frase che diceva ma perché ti preoccupi del corpo? perché dai tutta questa attenzione al corpo? lascialo agire semplicemente e allora tutto ciò che accade è il prodotto di azioni passate potremmo anche dire da un'altra prospettiva dopo vedremo della volontà divina e di altri fattori e poi c'è il discorso del libero arbitrio che è un discorso complesso visto che stiamo parlando di Ramana Marshi riguardo al libero arbitrio affermava che finché è presente il senso il senso di la sensazione di essere gli autori delle azioni si ha la sensazione del libero arbitrio e di poter scegliere quando invece viene distrutto l'ego sarà la volontà divina essere vista come quella che è il motore del corso degli eventi e una volta ci fu una donna che chiese a Ramana ma quindi era già stabilito che in questo giorno in questo momento io muovessi il ventaglio in questo modo e mi trovassi in questa situazione e Ramana gli rispose sì perché tutto quello che questo corpo deve fare e sperimentare è già deciso quando viene in esistenza una risposta molto chiara precisa e inequivocabile poi ciascuno può discutere in Oriente e Occidente ci sono stati i più grandi pensatori che hanno argomentato sul libero arbitrio ma questa è la visione di di Ramana e forse si chiarisce con un'altra domanda che gli chiesero viene posta questa domanda se accadrà ciò che deve accadere cioè quello che è destino ma allora c'è qualche utilità nella preghiera nello sforzo oppure non dobbiamo assolutamente fare nulla ha qualche senso pregare e Ramana tiene una risposta veramente interessante incredibile perché gli rispose ci sono solo due modi per sconfiggere il destino e rendersi indipendenti dal destino il primo modo è il chiedersi chi riguarda questo destino e scoprire che solo l'io è legato al destino non il se e l'io legato al destino non esiste questo è il primo modo il secondo modo è uccidere l'io arrendendosi completamente a Dio ossia vedendo la propria impotenza e pensando continuamente non io ma tu signore non io ma tu signore rinunciando in questo caso a qualsiasi senso dell'io e lasciando che Dio faccia di te quello che vuole ecco le due vie indicate da Ramana Marishi questa seconda è molto simile vi ricorderà Gurunana come anche San Francesco che percorrevano questa seconda via indicata da Ramana ed è strano pensare a questo fatto del libero arbitrio e quanto valore gli uomini attribuiscono alla quella che ritengono essere la libertà di agire quando in meditazione ad esempio quando si osserva il pensiero ci si rende conto che ci sono tutta una serie di ricordi associazioni emozioni motivazioni etiche inconsce che scaltano cosciente proiezioni future e poi l'uomo è sempre disagio perché la sua mente in continuazione sogna ad occhi aperti comincia a rimorginare a pensare ma come poteva andare se avessi preso una decisione diversa oppure nelle stesse identiche circostanze farei la stessa agirei nello stesso modo o no ma è praticamente impossibile ricreare circostanze identiche nei minimi particolari per poter fare una prova in questo senso e allora esaminando il problema della volontà del libero arbitro sarebbe più saggio forse limitare il nostro ruolo nel processo decisionale a quello di semplice testimone e allora lì non si sbaglia si osserva il processo e ci si abbandona al fluire delle cose perché tutta la faccenda si riduce a questa domanda qual è la natura dell'identità la natura dell'io del me che contempla del dio che contempla o che cerca o che fugge se stesso cos'è quest'io esiste è un concetto i mistici indiani sono millenni che insegnano quello che hanno scoperto intuitivamente attraverso la loro esperienza diretta che l'universo manifesto il mondo fenomenico è un'apparizione spontanea della coscienza a partire dall'immanifesto uno stato dell'essere in cui la coscienza non è consapevole di sé in altre parole l'universo manifesto nasce spontaneamente quando la coscienza inizia a muoversi e l'immanifesto diventa all'improvviso consapevole di sé attraverso il sorgere del pensiero io sono è quella che comunemente viene detta illuminazione risveglio liberazione poi secondo le tradizioni queste parole hanno significato un po' diverso perché per esempio l'illuminazione nella tradizione tibetana ce l'hanno solo le persone che non stanno più nel corpo e bastano ma adesso non è un problema è inutile entrare in queste sottigliezze dottrinali che confondono diciamo che l'illuminazione il risveglio la liberazione può avvenire solo con la chiara comprensione della realtà di ciò che è qui e ora e la sua caratteristica è che questa comprensione può avvenire solo quando l'io è cancellato in altre parole questa comprensione può avvenire solo quando non ci sono interferenze dell'io quando c'è pura consapevolezza quando c'è un testimone che osserva il processo e non c'è più un ego che traduce questo processo in una comprensione intellettuale dunque in una concettualizzazione e gli sforzi per il miglioramento di sé bisogna stare anche attenti qui a volte ripropongono le dinamiche dell'ego a livello più sottile bisogna capire queste dinamiche se non se per esempio la prima linea che divide il sé da non sé quella che separa il corpo dal mondo circostante qual è? è la pelle la nostra pelle tutto ciò che è all'interno della nostra pelle lo percepiamo come io come ego tutto ciò tutto ciò che è all'esterno lo percepiamo come non io altro il mondo esterno appunto il mio io si allarga anche al mondo esterno a volte perché il confine dell'io è elastico fantastico perché c'è una una continua interdipendenza con il mondo esterno però il confine in realtà il confine del senso dell'io coincide sempre con la con l'epidermine e la prima separazione la prima rottura di questo meccanismo avviene quando si comprende la non identificazione con il meccanismo corporeo ossia quando si comincia a comprendere io non sono il corpo da qui si comprende che se non sono il corpo io ho un corpo e il corpo ha la stessa natura di una cosa posseduta che è più una cosa mia che me io non sono il corpo l'identificazione io sono il corpo io sono il corpo mente è un'identificazione fondata sull'ignoranza del fatto che si ha un corpo ma il possessore non è un io che non esiste il possessore del corpo il suo possessore tra virgolette possessore è la coscienza impersonale che in seguito alla identificazione con l'organismo individuale con il corpo ha perduto il suo senso di integrità di brahman ha perduto la sua universalità e pensa di avere un aspetto personale quando invece brahman la nostra vera natura il centro è necessariamente impersonale in realtà anche quello ciò che si considera schiavitù in altri termini quello che cerca la liberazione non è l'illusorio io concettuale ma è la coscienza stessa che vuole ritornare ad essere impersonale la coscienza che prende coscienza di se stessa questa frattura tra corpo e mente questa cioè l'immediata conseguenza della separazione corpo-mente è che l'individuo non si considera la totalità dell'organismo ma solo un aspetto la mente o io e questo identificarsi con l'io è il gioco di maia il gioco di maia proietta la caduta della coscienza nell'io e il punto più rilevante di questo tipo di analisi è che ogni volta che si restringe l'identità impersonale l'identità dell'universalità alla persona l'individuo si crea sempre più problemi si crea sempre più conflitti e infelicità e la tragedia è che uno comprende che la causa reale della sua infelicità non è nel mondo esterno tutti in continuazione danno la colpa agli altri danno la colpa al mondo esterno ma la causa dell'infelicità è dentro ciascuno di noi e allora bisogna bisogna mettere in moto un processo di trasformazione e il Vedanta ci dice che il primo movimento di questa trasformazione è un profondo senso di insoddisfazione nei confronti della vita della vita ordinaria della vita che fanno tutti e da qui ci dice il Vedanta comincia il distacco il distacco dalla vita ordinaria quello che spesso gli psicologi chiamano disadattamento ma per forza se una persona comincia a sentire il richiamo di Eros dell'impulso divino è disadattato Gesù stesso diceva siete nel mondo ma non del mondo questa profonda insoddisfazione per la vita è proprio il momento in cui la coscienza personale comincia a rivolgersi all'interno e quella è l'occasione in cui il maestro sceglie il discepolo o meglio il discepolo può avere l'illusione di scegliere un maestro può avere l'illusione che per caso trova qualcuno che gli indica la strada e se il discepolo segue attentamente le indicazioni del maestro inizia una trasformazione immediata non c'è bisogno di aspettare anni si avverte già dopo pochi mesi si sente un cambiamento irrefrenabile da quel momento si inizia veramente quella che è chiamata la sadara e da lì poi dipende anche dall'impegno del sadaka come dice Patanjali da lì poi arriverà un momento in cui non si potrà più tornare indietro anche perché è la percezione delle cose che cambia e allora è fondamentale capire che c'è una comprensione impersonale dove non c'è nessuno che comprende e appena si insinua il senso dell'io che c'è qualcuno che comprende quella che Ramana chiamava la resa a Dio non è più resa la resa comprende l'abbandono e l'abbandono fondamentalmente dell'ego e quando comincia allora questo processo di vera conoscenza attraverso la disciplina l'individuo illusorio si ritira sempre più sullo sfondo emerge invece sempre più in primo piano questa armonia universale ed impersonale e ci si comincia ad abbandonare a questo flusso di energia cosmica e al momento giusto avviene l'illuminazione che può essere improvvisa può avvenire per gradi ma nell'uno o nell'altro caso l'illuminazione arriva sempre in un momento in cui non si aspetta e questa illuminazione non è altro che la guarigione di questa divisione apparente tra coscienza universale impersonale e la coscienza personale individuale dunque l'illuminazione avviene quando c'è la definitiva scomparsa dell'ego un caro abbraccio a tutti Marco Cosmo dell'oico l'unico l'unico